È stata una delle più grandi operazioni antidroga dagli ultimi anni in Sicilia. L'hanno portata a termine i carabinieri di Caltanissetta che hanno scoperto e sequestrato nelle campagne di Riesi una piantagione con 20.000 piante di marijuana skank. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno astronomico, 16 milioni di euro. Durante le indagini preliminari, coordinate dalla DDA della procura nissena, sono state arrestate 11 persone destinatari di misure cautelari in carcere. I carabinieri hanno ricostruito tutte le fasi e l'attività del clan, dal trasporto delle piantine in doppi fondi ricavati su cassoni di camion fino alla piantumazione e all'irrigazione e quando sono entrati in azione hanno scoperto una piantagione che vale quanto un tesoro.